Riparte la raccolta dei cellulari usati, l'iniziativa della Caritas Altoatesina che mette a disposizione il ricavato della vendita per le persone bisognose d'aiuto. Nel 2008 la Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone aveva avviato la prima campagna di raccolta cellulari usati e guasti. In quell'occasione furono circa 15.000 le persone che donarono i loro vecchi telefonini grazie ai 45.000 euro ricavati dalla rivendita è stato possibile garantire il nostro aiuto a chi ne ha veramente bisogno e prenderci cura anche dell'ambiente, hanno detto i direttori della Caritas Altoatesina Mauro Randi e Einar Schweikhoffler nel corso della conferenza stampa di illustrazione dell'iniziativa. Sì, questa è la seconda raccolta che facciamo, è in collaborazione con la Despa, in ogni negozio a Despa c'è un cartone e in questo cartone si può buttare i cellulari usati. Nella prima raccolta abbiamo avuto 15.000 cellulari donati e speriamo anche che questa volta i altuatesini ci danno un sopporto, ci danno un sostegno e che i cellulari che non vengono più usati, che lo buttino in questi cartoni che sono in tutti i negozi della Despa. Nel frattempo però si stima che decine di migliaia di vecchi cellulari giacciono inutilizzati nei cassetti degli altoatesini e Caritas riceve costantemente richieste su come smaltire in maniera intelligente i vecchi telefoni. Per questo motivo è stato deciso di rilanciare l'iniziativa anche nel 2010. Per ogni cellulare raccolto, è indifferente se funzionante o no, Caritas riceverà un contributo di 3 euro con cui potrà sostenere le persone che a causa di eventi dolorosi o traumatici si trovano in situazione di bisogno. Anche per il 2010 sarà possibile conferire cellulari usati o guasti in quasi tutte le filiali di Despar, Eurospar e Interspar e in tutti i servizi Caritas. Dal 3 al 27 marzo, in ogni negozio o supermercato, saranno presenti appositi contenitori di cartone in cui depositare i cellulari con o senza accessori. Ogni donatore dovrà ricordarsi di rimuovere la carta SIM e cancellare i dati personali dal vecchio telefono.